L'Arsenal va a vincere contro il Chelsea con ben tre reti a uno ieri 26 dicembre 2020, giorno di Santo Stefano. L'Arsenal vince questa partita in maniera diretta, complice di un risultato che pone l'Arsenal in una posizione di straordinaria bellezza. Le Chelsea spompo, privo di emozioni, privo di fascino, un Chelsea incapace di reagire, di riuscire a ribaltare il risultato e perde miseramente proprio in casa dell'Arsenal, ovviamente in questa partita di Premier League. A segnare per l'Arsenal è stato Lacazette al 35esimo di gioco su rigore, poi Xhaka al 44esimo minuto e Bucaio Xhaka al 56esimo di gioco. A segnare invece per il Chelsea un solo gol, Tammy Abraham all 85esimo di gioco del secondo tempo. Bene, questo dunque sarebbe quanto, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, iscrivetevi, commentate, complimenti all'Arsenal che ha vinto sul Chelsea.